Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su Youtuber Life, signori miei, un giochino di qualche annetto fa, se non ricordo male, sì, che io però porto adesso sul canale, perché noi siamo sempre così, in ritardo sui tempi, però dico l'importante è giocare assieme. Signori, detto questo io vi invito a lasciare like, vi invito a lasciare commenti, suggerimenti, vi invito a supportare questa serie, fatemi sapere se volete altri episodi, io conto almeno due o tre episodi di farli, poi decidiamo assieme se portarlo avanti oppure no, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni lo potete fare con i link che trovate in descrizione al video, detto questo partiamo signori. Ok, io ho fatto una nuova partita, è partita una presentazione, finalmente ce l'ho fatto, ok, sono youtuber più popolare, addirittura, gestisco mio network, fantastico, io sinceramente non me lo ricordo tantissimo, è stato un viaggio lungo e difficile, non me lo ricordo tantissimo questo gioco raga, ricordo qualche cosa, soprattutto iniziale, questa è la mia storia, spettacolo, bello così, bello così, dai, intrigante, intrigante, vediamo, vediamo come va, ok signori, dobbiamo intanto crearci il nostro personaggio, se trovo, allora, maschio sicuramente, maschio, ci siamo, carnagione, sì, va bene questa, va bene, ha giudicato, no, 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 che cosa, capelli, allora, capelli, 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 belli capelli, no, così no, così mi fa impressione, così sono troppo lunghi, una capigliatura normale non ci sta raga, così è troppo fresco, io non sono così fresco, così è inguardabile, così col crestone, solo questi ci stanno come capelli raga, ma che paranoia, con la fascia in testa, sì, dal rivoluzionario, va bene questi, dai, facciamo questi di qua, occhi, 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 castani, sì, però i capelli non ce li ho così, mettiamoli neri, ecco, dai, più o meno, aspettate che mi guardo allo spettacolo, sì, più o meno così, dai, non ci sono proprio i capelli giusti, però va bene, ci teniamo questi, dai, questo è più simpatico, così, così, occhi, sì, questo castano così, belli aperti, mi piacciono, sì, è giù di caso, poi, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, lasciamo questa qua, va bene, va bene questa, mi sta simpatica questa di qua, poi, barba, ma è un bambino, dico, gli devo mettere la barba al bambino, no, i baffi biondi, la barba bionda, mamma mia, ma è un bambino, niente barba, cappello, posso mettere solamente tre cappelli, mettiamo questo del New York Yankee, signori, bello, mi piace, spaga so, spaga so, però non ne mettiamo, niente cappello, vestito, 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 dai, con un maglioncino così, verde, mi piace, fashion, ci sono un sacco di cose da sbloccare andando avanti, ma va bene il maglioncino verde e il rosso, verde, 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 speranza di riuscire a fare qualcosa con questa serie, pantalone, direi un pantalone, un jeans normale, va bene così, bello così, scarpe, 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 signori miei, io direi di mettere questo, no, ma è un bambino, mi devo ricordare che è un bambino, è un ragazzino, è questo, è sportivo ma allo stato giusto, occhiali no, occhiali non ne abbiamo, personalità, superstar, ricco, socievole, romantico, amante delle feste, genio, metterei ricco, signori miei, però no, dai, facciamo socievole, mi piace, mi piace socievole, anche se potrei anche mettere romantico, vabbè, socievole, dai, di cosa vuoi parlare sul tuo canale, gaming, fashion, live, musica, gaming, per forza, dico, facciamo gaming, inserisci il tuo nome, non nel canale, inserisci il tuo nome, allora, maullo, ci mettiamo papa maullo, signori, signori, papa maullo, nome del canale, maullo 941, raga, quando si dice precisi, perfetti, andiamo così, si parte, raga, si parte, ok, ci siamo signori, ho iniziato a fare video in questa stanza, mi era appena trasferito con mia mamma e non avevo molti amici lì intorno, diamo un'occhia delle mie prime cose che ho imparato per diventare lo youtuber numero uno, addirittura, siamo lo youtuber numero uno, puoi controllare la telecamera dei tuoi personaggi con mossa tastiera, obiettivo, ruota la telecamera con il pulsante centrale, ok, regola lo zoom, muoio la telecamera col pulsante destro, ok, muoio la telecamera col pulsante sinistro, ruota la telecamera con il pulsante centrale, ruota la telecamera col pulsante centrale, ok, i primi obiettivi siamo riusciti a farli tutti, che cosa carina, il tuo primo video, durante questi giorni mi sono divertito a fare video divertenti di giochi che avevo sulla mensola, non ne vedo manco uno, signori, tentativa di obiettivi, vai alla mensola, vai alla mensola zio, scegli i gioco, uno solo, va bene così, Empire Planet 2, ok, seleziona il gioco, seleziona il gioco, eh, seleziona il gioco o il tipo di video, clicca sul tipo di video, choose your gameplay, dai è così, famo un gameplay, mi piace, mamma mia, fase di configurazione, in questa fase devi configurare la webcam e il microfono che userai in recessione del video, la tua protezione di lavoro ha un numero limitato di punti in rendita, a seconda dei suoi componenti, in posizione più avanzata, va bene, allora, webcam, basta risoluzione, non c'abbiamo un'altra cosa, basta risoluzione, microfono, senza filtro, ma che ne so io, select coordination, monodirezionale, dai è così, inserisci il nome, Empire, gameplay 1, ci sta, ci sta, in questa fase dovrai affrontare diverse sfide che dovrai risolvere scegliendo una carta, ogni carta ha un certo numero di idee, ha punti abilità e genera un video, scegli le carte migliori in base alla situazione e attieni i punti abilità, scegli una carta, allora, countdown, 2, 4, espressione, commento fuori, questa, ok, perfetto, carriera, espressione felice, sguardo assassino, espressione felice, ok, poi che altro dobbiamo fare, prossimo, ok, ora, crea il tuo video, trascinando i clip del fotogramma, ok, quindi devo fare così, devo fare così, giusto, effetti, aggiungi, aggiungi titolo, ci starebbe un aggiungititolo, metto qua, se questo, così, no, aggiusta colore, ma si, regola al fuoco, non possiamo metterci più regola al fuoco, vai, rendering, risultate in partner plan, che interessa e guardate contenuti 13, qualità video 1, editing 7, dai, copione 2, clicca su upload per renderizzare il video e caricarlo sul tuo canale, video editing 2, audio 1, pubblica, empy, mi annoia il tempo che ci mette a caricare il video sul canale, ma ti dirò che vedere le visualizzazioni di iscritti e i soldi generati, e i soldi generati crescere sempre generati, ci sono sempre i commenti che mi aiutano a capire cosa devo fare, ok, è come ho un testo ogni mese, quindi devo studiare, se prendo un bel voto ricevo un premio, ma se fallisco la mamma mi togliere il computer, inizia, vita da studente, per andare a scuola devo solo uscire dalla mia stanza, ok, per studiare, che devo fare, dove stai andando, studia, ignorante, devi studiare, ignorante, studia, abbiamo tanti bei soldi, abbiamo 0 iscritti, con 0 visualizzazioni, ah forse ancora non l'abbiamo caricato, ok, posso sempre controllare se sono pronto per il test, controllando il calendario sul mio cellulare, mandare a scuola e avere buoni voti, è tutto, missione compiuta, a volte vado a fare acquisti e a controllare le nuove uscite, accetto, ok, che devo fare, non devo lasciare a casa per fare acquisti, i negozi online sono ok, perfetto, faccio shopping, uso il pc per gli acquisti, va bene, acquisti, abbiamo 100 euro signori miei, andiamo su amazon, però ci sono solo 3 negozi aperti, ma andando avanti sbloccare gli altri, posso visitare uno di questi negozi e uscire cliccando sulla croce, ok, su amazon che posso comprare, lord, lord, altri giochi, ma mi sembra tutto, league of gigants, dai compriamo il league of gigants, ancora noi, si, compralo, compra, acquista, spegniamoli i soldi, dai così, basta amazon, no, ho già finalizzato con le basi per creare i video, se l'inizio sarebbe stato difficile, nessuno può fermarmi, devo fare, porca miseria, abbiamo già 23 iscritti raga, apri, apri, abbiamo già 23 iscritti 102 visualizzazioni, 28, mamma mia, ma ci stiamo viaggiando, che è una bellezza, signori miei, nuovo video, sì, dai, fammi il nuovo video, sui giganti, dai, dai, non è arrivato questo, sì, ah sì, scusami, giganti, giganti, recensione, possiamo fare, possiamo fare solamente gaming, vai anche gaming sui recensi, vai così, basta risoluzione, totale station one, è solamente questo, continua, vai, sì, questo è anche il primo gameplay, dai così, guardami giocare, ah, qua dobbiamo scegliere le carte, commento, commento cantando, dai, non è piaciuto il commento cantando, porca miseria, espressione felice, dai, l'espressione felice è piaciuta, finito, solamente due carte, potevamo scegliere, ok, allora, mettiamo questo, mettiamo questo, e poi mettiamo, o aggiungiamo un titolo, e regoliamo il fuoco, dai così, interesse 64, contenuti 17, qualità video 7, editing 14, dai, stiamo, stiamo crescendo, stiamo crescendo, bella così, bella così, ci siamo, ci siamo, ritira video, non sembra male, pubblica video, pubblica video, dai così, dai così, ci siamo, ok ragazzoli, allora, io, io, nuove carte, va bene, ragazzoli, detto questo, vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, noi ci vediamo sempre qui sul canale, per continuare questa avventura, bella raga, ciao! 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 Grazie a tutti.